Non conta che tu sia poco, conta se te metti nelle mani di Cristo. Ogni situazione nelle mani di Dio diventa vita. La malattia diventa vita nelle mani di Dio. La solitudine diventa vita nelle mani di Dio. L'ingiustizia diventa resurrezioni nelle mani di Cristo. Diventa la salvezza del mondo intero. Vedete, una delle cose essenziali della nostra, vedete che è bellissima, è che tutto può essere valorizzato. Noi crediamo a un uomo che di un'ingiustizia mostruosa ha fatto l'opera d'arte per eccellenza. Ha fatto l'atto d'amore che ci ha mostrato il volto di Dio e ne ha fatta la porta della resurrezione. Allora, sei una bocca o sei un panino? Sti cinque panini li tieni tu o li dai a Dio? Vedi tu. Grazie.